Napoletana, figlia dell'attore teatrale Eugenio, fondatore della compagnia Caffiero Fumo, sorella dell'attrice Nuccia e moglie dell'attore Pasquale Malleo alias Fiorante, Nunzia Fumo ha iniziato da bambina a frequentare il palcoscenico, dedicatasi in Italia e all'estero prevalentemente all'attività teatrale, recitando anche al fianco di Peppino ed Edoardo De Filippo. Fu riscoperta dal cinema, nel quale aveva sostenuto già alcune parti, a metà degli anni Ottanta, insieme alla sorella Nuccia, sul finire della carriera, soprattutto grazie alle memorabili interpretazioni nei film di Luciano De Crescenzo. Così parlò Bella Vista, il mistero di Bella Vista e 32 dicembre. Nunzia muore a 78 anni nel 1992.